Domenica 22 dicembre presso il villaggio sportivo Giovanni Paolo II di Cerignola si è svolto il primo appuntamento stagionale del mini volley provinciale Tarkato FIFA, evento organizzato e realizzato grazie alla collaborazione tra Libera Virtus e Pallapolo Cerignola ed erano circa 300 i bambini che da tutta la provincia di Foggia vi hanno partecipato. Un evento che ha attraverso lo sport avvicinato i più piccoli e le loro famiglie le due grandi realtà del panorama pallavolistico locale che hanno nel settore giovanile il vero fulcro della loro attività, la Libera Virtus e i Vuxia della Pallavolo Cerignola. L'importante evento è stato patrocinato da alcuni, dal Centro Sportivo Italiano e dal Comune di Cerignola e si è svolto grazie all'incarico che il Comitato Foggiano della FIFA ha voluto dare alle due associazioni cerignolane. La manifestazione intitolata Un Natale con i mini volley è la prima di una lunga serie di tappe che la Federazione Italiana Pallavolo promuove per la stagione sportiva 2013-2014. alla manifestazione hanno aderito le società sportive regolarmente iscritte alla FIFA. Questo è solo il primo speciale natalizio che noi di Assist Sportivo vi abbiamo mostrato nei momenti sportivi più belli perché lo sport non è fatto solo di lustrini o figurine ma di passione e di persone umili. La squadra di Assist Sportivo vi augura un sereno e felice Natale. Now the ground is white, go eat while you're young, take the girls tonight and sing their sleigh'n song. Just get a boc-tail bake, 240 for a speed, then hit them to an open slide and crack you'll take the lead. Ho 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 ho! E'er bismaaah! One horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what time it is to ride And a one horse open sleigh Jingle bells, jingle all the way Ringgare! Ringgare!